Davvero un po' convincerti che tanto stunto inutile E' un caso che quest'ultima variante è un'utile Se non ci fosse questa maledetta nostalgia Che ci resta un po' di tipo di orgoglioso quanto basta fino a c'è 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 E' stato un po' di tipo di orgoglioso quanto basta E' un caso che quest'ultima è un'utile Ma non è un caso che quest'ultima è un'utile E' un caso che quest'ultima è un'utile L'odore che non se ne andrà, l'odore che io so per te, l'odore. Per raccontare strani di tutti i partiti che sono noi, per vivere gli stessi giorni da una fotografia. Per raccontare strani di tutti i partiti che sono noi, per vivere gli stessi giorni da una fotografia. Per raccontare strani di tutti i partiti che sono noi, per vivere gli stessi giorni da una fotografia. Per raccontare strani di tutti i partiti che sono noi, per vivere gli stessi giorni da una fotografia. Per raccontare strani di tutti i partiti che sono noi, per vivere gli stessi giorni da una fotografia. Per raccontare strani di tutti i partiti che sono noi, per vivere gli stessi giorni da una fotografia. Ok, adesso è giunto il momento di presentare un personaggio illustre. Ora... Allora, io ho la piacere di presentare stasera... Allora... 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 Allora...